Allora ragazzi, oggi c'è Juve e Bologna, dopo le partite di ieri, ormai ragazzi il Napoli va, va, non pensavo che fosse così forte, invece è una squadra molto, molto, molto forte, gioca bene, giocatori che segnano, e quindi niente. L'Inter si è fermata, nuovamente, quarta volta che è aperta in otto partite, la Roma risale, il Milan risale, quindi ragazzi noi dobbiamo fare la partita su di noi, dobbiamo da oggi con Bologna ritornare a vincere, fare punti su punti finché non ci sia la sosta per i mondiali. I partiti da qui alla sosta, se non so se ne mancano 7, 8, ma minimo, 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 12 punti devi fare, 12, 15 punti. Ragazzi bisogna farli perché sennò veramente siamo messi male, ragazzi siamo messi male. Io spero che la società che non parla mai si sia fatta sentire sia con il relatore che con i giocatori, dire che noi siamo la Juventus, quindi dobbiamo vincere assolutamente. E che i giocatori non facciano come contro il Monza che si sono ammutinati contro l'allenatore. Bisogna metterci le palle, andare su tutti i palloni, tutti i contrasti, come primi, non fare mai arrivare loro come primi, sempre noi primi sulla palla. Ragazzi giochiamo con il Bologna, chiamato via l'allenatore, essere un altro dell'allenatore, quindi anche un po' di gioco cambia. Non lo so, è bene che anche il Monza, contro noi il nuovo allenatore ci ha fatto il mazzo, ma perché noi non stavamo giocando, quindi è giusto che... Quindi se la Juventus fa la Juve, i giocatori giocano come stanno a giocare a calcio, perché abbiamo visto che le nazionali sono dei ottimi giocatori. Ragazzi, andare in campo su una sola cosa, vincere. Vincere, vincere. E basta. Ragazzi, poi giochiamo con il Bologna, tanto rispetto a fare il Bologna, ragazzi, Bologna. Se quando giochiamo contro l'Inter, contro il Milan, contro il Napoli... Eh, ragazzi, su... Un po' di cattiveria, cazzimma, sì... Io, giocatore, ce lo posso avere pure a morte con l'allenatore, ma io vado in campo, ci vado io in campo. La gente vede me giocare, non vede l'allenatore in campo, quindi io ci devo mettere la passione che vada in campo. No, perché l'allenatore mi sta sulle palle, va bene, non va a fare il culo. Allora, non gioco più, perché tanto cosa... No, ragazzi, io gioco per me, per me e per la squadra gioco. Se la squadra fa schifo, faccio schifo anche io. Eh, su, ragazzi, un po' di... Un po' di amor proprio, dici... Cazzo, noi sono la Juventus, dobbiamo vincere, dobbiamo mangiare vivi i giocatori, mangiare il campo, cazzo. Stanto il nostro presidente non vuole più che ci siano i tifosi allo stadio, che sembra un mortorio il nostro stadio. Metteteci voi a cazzimma. Ci vuole un po', ragazzi, di cattiveria. Guarda dire il Milan, era 1-1 al 92esimo, poi ha vinto il 97esimo. Eh, la Roma ci ha graduto, ha vinto contro l'Inter e stava perdendo la Roma. E Napoli è forte, c'è i giocatori. Eh, perché noi non possiamo fare la stessa cosa? Per nove anni ci siamo mangiati tutti. Che noi che venivamo stato, ci aveva paura. Nel Movimento Stadium. Super, ragazzi. Dai, ragazzi, oggi... Oggi Juventus Bologna deve essere la partita della rimonta. Da qui se riparte, in avanti, sempre pensare di portare a casa il risultato. Ok? Dai, ragazzi. Forza Juve, fino alla fine. Mettete il like, iscrivetevi e condividete. Al prossimo video. Ciao, ciao e buona domenica.